GF VIP, cosa è successo nel van? Stasera verità di Tavassi, Donna Maria, Murgia e Micol. Edoardo Tavassi torna sulla frase detta in segreto nel van del GF VIP, dove i microfoni erano stati staccati grazie alla complicità di Micol in Corvaia. Il chiarimento con Daniele Dal Moro è sui riferimenti alla sua omosessualità, stavamo scherzando. Ciò dei modi grezzi di fare le battute. Finalmente il grande fratello VIP può contare sul primo vero crime della stagione, il caso van è aperto. Protagonisti sono stati Edoardo Tavassi e la fidanzata Micol in Corvaia, Edoardo Donna Maria e Nicole Murgia. La location è stata allestita in un angolo del camper che di solito ospita la famiglia in Corvassi. Solo che stavolta l'incontro aveva scopi ben diversi. Staccati i microfoni alla telecamera che doveva sorvegliare la nottata fatta di chiacchiere e segreti. Non hanno pensato all'unico microfono che era rimasto attaccato, quello di Edoardo Donna Maria. Tra scherzi di vario tipo, discorsi su pratiche sessuali e racconti personali sul modo di vivere l'intimità. E' uscito in mezzo il nome di uno dei concorrenti, ignaro di finire nel gate. Parliamo di Daniele Dal Moro. Preso in giro per un'omosessualità che faticherebbe a essere confessata. Una frase in particolare al centro del discorso, se Oriana gli dicesse. Le uniche parole che Alfonso Signorini ha voluto mostrare, lasciando l'interpretazione del resto al pubblico. Dopo la puntata, Edoardo Tavassi è corso a spiegarsi con Daniele Dal Moro e ha buttato tutto in cacciara, è stata una serata divertente. Era tutto a ridere, non c'era una cosa seria, inclusa la frase su di te. Sembrava di stare fuori. E' inutile puntare su una cosa sulla quale scherziamo sempre io e te, non va decontestualizzata. Se la gente non sa che tramette c'è la serenità di questo modo di scherzare. E' normale che travizza. Io c'ho dei modi grezi di fare le battute. Grazie a tutti.